Allora Hermes, finalmente questo spettacolo è arrivato, è arrivato, è arrivato il momento, ce l'abbiamo fatta, che farai? Allora sarà uno spettacolo dove sarò solo sul palco e mi confronterò con il pubblico in un momento di... No, che solo scusa, a me non mi presenti? Quindi dicevo sarò da solo... No dai, tu hai una donna a casa. Donna, se così si può definire. Buonasera a tutti, io sono Titina e faccio lo spettacolo con Hermes, dillo. Ma mai hai detto che ero da solo? Eh lo so, però purtroppo me la devo portare, se no non mi magna, capisci? Siamo fidanzati, dillo che siamo... Non siamo fidanzati, siamo due colleghi... Ma che c'è mamma che mi ascolta, dillo, a mamma, l'ho trovato il fidanzato. Non siamo fidanzati, siamo soltanto due amici che da otto anni collaboriamo... Ciao nonno, non salutare gli amici. Allora, dunque dicevamo, è uno spettacolo che facciamo in due, a questo punto... Sì, ci baciamo in questo spettacolo. Non ci baciamo perché non posso... E dillo la verità. Non ci possiamo baciare, siamo amici. E sarà uno spettacolo dove mettiamo in risalto tutte le dinamiche di coppia. Tutte le manie delle coppie che... Quindi siete una coppia? Bravissimo, siamo una coppia. No, non siamo... Sul palco sì, sul palco siamo una coppia. Vai, poi devo dare un bacio. Dammi un bacio. Evitiamo, ci sono gli amici di Bello e Cattivo Tempo. Il Bello e Cattivo Tempo. Il Bello e Cattivo Tempo, anzi salutiamo. E vi invitiamo al teatro il 9-10 marzo, cioè stasera e domani sera al Teatro Portaportese. E purtroppo non sarò da solo, ma ci sarà pure Titina. Io sono il Bello e tu sei Cattivo. Penso, il livello è poi altissimo. Penso al tempo. Pensa che brutto tempo che ci sarà stasera e domani sera. Vi aspettiamo al teatro, anche perché poi a fine spettacolo ci sarà una piccola sorpresa che un po' spiazza tutti. Io mi spoglio. Purtroppo... Come che si dice adesso? Escile. La gente deve venire al teatro, non si deve scappare. Venite, venite, il 9-10 marzo al Teatro Portaportese. Hermes e Titina in Dalweb al live. Ciao.